Ben trovati all'ascolto del nostro telegiornale. In apertura parliamo di cronaca, in particolare di un'operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza di Catania, droga all'interno del carcere di Augusta. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio. 16 persone sono finite sotto inchiesta per aver introdotto ancora una volta droga all'interno del carcere di Brucoli. Questo è emerso dall'indagine coordinata dalla Direzione di Estruttare l'Antimafia. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, con la collaborazione e il supporto del nucleo investigativo centrale della Polizia Penitenziaria, hanno dato esecuzione all'ordinanza di custode cautelare emessa dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale Etneo nei confronti di 16 persone, sottoposta a indagini a vario titolo per reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di stupefacenti nel carcere di Augusta, oltre che per associazione per delinquere finalizzata all'indebito procacciamento di apparati telefonici per detenuti della stessa casa circondariale, ma anche per corruzione di pubblici ufficiali per atti contrari ai propri doveri d'ufficio. L'attività di indagine svolta dai finanzieri del nucleo di Polizia Economica e Finanziare di Catania, in stretto collegamento con il Comando della Polizia Penitenziaria in servizio all'Istituto Penitenziario di Augusta, ha consentito di fare luce su una ramificata organizzazione che è attiva tra Catania ed Augusta, finalizzata al reperimento e allo spaccio di sostanze stupefacenti, cocaina, marijuana, hashish e skunk, tra i detenuti dell'Istituto di Pena, oltre all'illecita emissione e consegna a favore degli stessi soggetti reclusi, telefoni, cellulari e apparecchi per la comunicazione. Dalle investigazioni, iniziate dal settembre dello scorso anno, è emerso che, in primo luogo, l'associazione finalizzata al traffico e stupefacenti sarebbe stata promossa da due detenuti, Dario Giuseppe Montone e Luciano Ricciardi, i quali, attraverso telefoni cellulari illegalmente introdotti nella casa circondariale, avrebbero diretto le attività all'esterno, a volte al reperimento, al deposito, al trasporto di diverse tipologie di sostanze stupefacenti. Hanno anche individuato all'esterno della casa circondariale le altre persone che hanno partecipato all'associazione, i quali avrebbero organizzato un articolato e definito sistema per acquisire, nascondere, confezionare, trasportare e poi introdurre all'interno del carcere. Lo stupefacente e gli apparati di comunicazione, in particolare, sono finiti nel mirino degli investigatori, Michael Cusumano, che si è attivato per l'acquisto in alcuni fornitori, Santorriolo e Michael Sanfilippo, le partite di stupefacente che poi veniva custodito e confezionato in dosi, pronte per lo smercio da Rosaria Buda. Acquistato lo stupefacente, Michele Pedone, suo intendente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Augusta, aveva il compito dietro compenso del trasporto e dell'introduzione della droga nella stessa casa circondariale, mentre Giovanni Buda ha garantito, d'intesa con gli altri, il costante approvvigionamento di telefoni cellulari e sim card, oltre che i relativi accessori per la introduzione in carcere, sempre a cura dello stesso Pedone. A tal riguardo le indagini hanno evidenziato che Pedone, nell'esercizio della sua funzione di pubblico ufficiale, avrebbe ricevuto somme di denaro per il trasporto e l'illecita introduzione della droga e degli apparecchi telefonici nel carcere di Augusta. A lui è stato contestato il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio. Lo stesso Pedone, individuato anche grazie al contributo fornito al gruppo del comando del carcere di Augusta, godeva all'interno dell'istituto di connivenze e coperture sulle quali sono in corso ulteriori accertamenti. Una volta introdotti in carcere, diversi quantitativi di droga sono state acquisite evidenze di cinque consegne di droga. Muntone e Ricciardi avrebbero provveduto a cederlo dietro pagamento ad altri reclusi, Sebastiano Muremi, Simone Sapienza, Giuseppe Genesio, Fabiano Scattamaglia, Eros Milone, Francesco Maccarone e Francesco Ferrito, i quali a loro volta lo hanno rivenduto ad altri detenuti. In esito della complessa e articolata attività di indagine della Guardia di Finanza, il giudice per le indagini preliminari su proposta della Procura ha pertanto emesso un'ordinanza di custode cautelare in carcere nei confronti delle 16 persone. Lasciamo la cronaca, andiamo a parlare dei nuovi positivi in Sicilia, una curva che sale lievemente. Invece sono 412 guariti dal coronavirus e 10 i decessi in tutta la Sicilia. Questi sono i dati, ricordiamo, del bollettino del Ministero della Salute di ieri alle 18. intanto scatta la zona rossa per altri due comuni siciliani. Si tratta di Canicati e Favara, in provincia di Agrigento. Sentiamo tutto. La Sicilia è al terzo posto fra le regioni italiane per il numero dei nuovi contagi nelle ultime ore. Secondo il bollettino di ieri alle 18 del Ministero della Salute, il dato dei nuovi positivi nell'isola è di 1384. Scatta la preoccupazione sui social di una probabile zona rossa per la regione, dato il numero dei contagi, ma dal governo regionale nessuna anticipazione a riguardo. Certa invece la zona rossa per altri due comuni siciliani, Canicati e Favara, in provincia di Agrigento. Su Siracusa e provincia, un calo sostanziale dei nuovi positivi al coronavirus, dai 162 di lunedì ai 43 di ieri, secondo i dati a confronto con altri comuni, Siracusa risulta essere con meno contagi. Sempre confortante il numero di coloro che sono usciti dal Covid-19, con le cure anche domiciliari. Infatti il dato dei guariti nella regione è di 412 persone. Si registra un incremento di 25 unità. Per quanto riguarda il numero dei ricoveri, 176 il numero complessivo dei pazienti in terapia intensiva negli ospedali siciliani. Si dimezza il numero dei decessi. Due giorni fa, 20 invece, rispetto al numero di ieri, sono 10 le persone decedute. I tamponi molecolari processati sono stati 11.192 e 16.426 quelli rapidi. I nuovi contagi in Sicilia sono così distribuiti nei vari comuni con province 514 a Palermo, 321 a Catania, 141 ad Agrigento, 113 a Messina, 81 a Caltanissetta, 54 a Ragusa, 52 a Trapani e 43 a Siracusa. A Lentini il sindaco ha disposto la chiusura della villa comunale e anche del campo scuola. A Lentini è da settimane che i cittadini chiedono al sindaco di conoscere la situazione sanitaria determinata dalle Covid-19 anche in considerazione del fatto che il 7 aprile scorso sono stati accertati 12 casi di positività alle Covid-19 tra gli operatori ecologici dell'impresa che ha in appalto il servizio di raccolta dei rifiuti. Solo ieri sera, e quindi a distanza di una settimana, il sindaco di Lentini ha ritenuto opportuno parlare della situazione Covid in un suo intervento nei social e della positività dei 12 operatori ecologici, nonostante il caso fosse stato sollevato l'8 marzo scorso dal segretario provinciale della CGL Funzione Pubblica, Franco Nardi. A Lentini, in effetti, nella sola giornata di ieri sono stati registrati dall'Aspete Siracusa 109 positivi alle Covid-19 e questo ha contribuito anche a dialimentare la preoccupazione del primo cittadino lentinese che con propria ordinanza ha ordinato la chiusura della Villa Gorgia, del Campo Scuola, del Parco Giochi di Via Eschilo e del Mercato del Giovedì dove sarà consentita solo la vendita di generi alimentari. Situazioni difficili anche nelle scuole lentinesi dove, a causa di presunti casi di Covid-19 si legge nei comunicati diffusi dai vari dirigenti scolastici, l'attività scolastica in presenza è stata sospesa per consentire la sanificazione dei locali. Questo succede nel plesso di Via Macello e dell'Istituto Aletta dove sono dislocate alcune classi della Vittorio Veneto dopo la chiusura della sede centrale dichiarata inagibile. Numerosi genitori infine fanno rilevare che anche nelle sedi degli statuti superiori come il Liceo Gorgia, la Laimo e il Vittorini gli interventi di sanificazione dei locali sono stati effettuati sempre in tempi alternati. Il Pubblico Ministero Gaetano Bono si trova in Olanda per essere presente all'accertamento irripetibile legato si ricorda i lotti del vaccino AstraZeneca somministrato a Stefano Paternò il sotto ufficiale in servizio alla Marina Militare di Augusta per la cui morte la Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. Sentiamo i dettagli. Sono in corso a Bilthoven in Olanda agli accertamenti disposti della Procura di Siracusa nell'ambito dell'inchiesta sul decesso di Stefano Paternò il militare è morto il 9 marzo a Mister Bianco poche ore dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Si tratta di nuovi accertamenti tecnici irripetibili disposti per stabilire le caratteristiche dei contenuti nei flaconi del vaccino relativo a sei lotti tra i quali quello somministrato al sotto ufficiale della Marina Militare in servizio ad Augusta morto poche ore dopo il vaccino. Ad accompagnare in Olanda i lotti dei vaccini AstraZeneca a bordo di un velivolo militare ha messo a disposizione dal Comando Generale dei Carabinieri insieme a Ennassa di Catania anche il Pubblico Ministero Gaetano Bono. Il magistrato ha chiesto a Ennassa di prendere altri due lotti a caso per fare un confronto sono state portate in Olanda 12 fiale del lotto incriminato cioè il 2856. Altri sei erano in un ospedale militare di Augusta dove è stato somministrato il vaccino a Paternò e le altre sei fiale sono state scelte a caso per un totale di 42 fiale. L'inchiesta intanto prosegue per verificare se ci sia una correlazione tra la morte del militare e la somministrazione del vaccino. Le attività che sta svolgendo la Procura di Siracusa in discovery all'esame autoptico è alla seconda fase e prevede tra le altre cose quello tossicologico. Proprio ieri sono stati eseguiti i prelievi istologici sul corpo del militare. Dopo l'autopsia sono stati prelevati gli organi sono stati messi in specifica soluzioni che hanno fissato gli organi e ieri è stato fatto invece il campionamento alla presenza dei consulenti di parte. Adesso sono attese le analisi istologiche l'analisi cellulare per sapere se ci fosse qualche patologia a livello di organi o che non si conosceva prima. Nel frattempo si stanno eseguendo le altre analisi e i risultati sono attesi fra una quindicina di giorni. Ancora una decina le procure che indagano in Italia su casi sospetti. La Procura di Siracusa ha attuato un coordinamento investigativo. Quattro le persone indagate nell'ambito dell'indagine. Ancora tra questi Lorenzo Wittum che è il legale rappresentante di AstraZeneca Italia. Le analisi in Olanda saranno effettuate oggi e poi nella giornata del 20 aprile. L'esito perverrà fra tre settimane. La crisi finanziaria di liquidità degli enti locali siciliani ha ormai toccato il fondo con l'immobilismo della regione e il silenzio della politica. Anzi, Sicilia prende così posizione. Gli enti locali siciliani sono ormai alla deriva dal punto di vista finanziario e questo a causa dei trasferimenti di risorse da parte della regione e dello Stato anche per le promesse non mantenute in relativa agli aiuti e ai sostegni per i lunghi lockdown. Così la Presidente di Anci Sicilia, Paola Menta, denuncia il disagio e le difficoltà degli enti locali siciliani di poter procedere all'approvazione dei bilanci di previsione. Allo Stato attuale gli enti locali siciliani devono ancora ricevere per il 2020 il saldo di 340 milioni del fondo per le autonomie, 115 milioni per la quota investimenti e 300 milioni promessi dal fondo pericurativo per mancati introiti delle imposte locali sospeso cancellate durante l'emergenza Covid. Mentre per l'anno in corso si attendono ancora l'anticipazione della prima trimestralità nella misura del 60% e la parte della quota investimenti. A ciò si aggiunge il mancato trasferimento del fondo nazionale e il dimezzamento della capacità di riscossione dei tributi, soprattutto di Tari, Imu e solo pubblico da parte degli enti locali per le difficoltà economiche di famiglie e imprese. Si aggiunge ancora il mantenimento in vita del fondo dei crediti di dubbia esigibilità che in una situazione di tale difficoltà di riscossione cresce di più, pesando sui comuni che sono così impossibilitati di approvare i propri bilanci di previsione. Come se non bastasse, il baratro diventa ancora più profondo con il disastro dei rifiuti nella gestione dell'emergenza Covid e della sanità territoriale oltre all'irrisolta questione della crisi dei liberi consorsi che ancora oggi non riescono ad avere certezze su competenze e funzioni attribuite loro dalla legge e delle rispettive coperture finanziarie per assolvere ai compiti. Parliamo della discarica di Lentini perché la problematica arriva adesso anche a Montecitorio. Il caso della chiusura della discarica del Grotte San Giorgio a Lentini arriva in Parlamento. A sollevarlo è il parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle, Filippo Scera. Ha ribadito il no all'ampliamento del sito. Grazie Presidente. In provincia di Siracusa a Lentini si trova la più grande discarica della Sicilia ed una delle più grandi di tutto il meridione. Ciò che sta avvenendo in questa discarica che è la discarica di Grotte San Giorgio è l'emblema del fallimento della regione siciliana sulla gestione dei rifiuti. Adesso la discarica di Grotte San Giorgio in cui depositano i rifiuti circa 150 comuni siciliani si appresta a chiudere e dall'1 maggio di fatto la Sicilia non sarà più autosufficiente nella gestione dei rifiuti. Questo è un fatto molto grave, Presidente. Ci tengo a dire qui, in questa sede, che le comunità di Lentini, Carlentini, Francofonte e il territorio limitrofo hanno già dato tanto in termini ambientali e di salute proprio per gli errori della politica siciliana. E dico qui come Movimento 5 Stelle che ci opporremo a qualsiasi ampliamento, a qualsiasi ipotesi di ampliamento della discarica di Grotte San Giorgio proprio perché questi territori hanno già dato troppo per degli errori evidenti della classe politica siciliana. Allo stesso tempo da biasimare quella che è la soluzione proposta dal Presidente Musumeci cioè quella di utilizzare addirittura i fondi europei per poter esitare rifiuti fuori dalla Sicilia. I fondi europei in Sicilia devono essere utilizzati per migliorare le condizioni della nostra isola non per rimediare agli errori continui di Musumeci e della sua giunta. Questo mi sento di dire una giunta che deve fare un ultimo gesto dignitoso che è quello di dimettersi. Grazie, Presidente. Ci fermiamo adesso per un breve stacco pubblicitario ma vi aspettiamo ancora dopo per la seconda parte del nostro telegiornale. A dopo. Sono qui a presentarvi il nuovo centro di riabilitazione a Siracusa si occuperà di fisioterapia e di fisiatria sia in ambito diagnostico che anche dal puntista terapeutico e ci occuperemo di medicina manuale e di osteopatia con la possibilità di effettuare dei trattamenti specifici sia privati e in futura convenzione appunto per la popolazione di Siracusa e della zona limitrofa. Ci occuperemo del paziente dalla parte gestionale dalla parte diagnostica così come nella fase pre- e post-chirurgica dell'eventuale successivo intervento ci occuperemo anche della parte conservativa quindi la terapia fisica manuale classica e la terapia fisica strumentale. Casa di cura Clinica Villarizzo Via Sebastiano Agati Siracusa Info 0931 70 81 11 Toscano non è solo un portale e un'app all'avanguardia per vendere casa non è solo un'azienda che da 40 anni garantisce affidabilità e risultati Toscano è un team di professionisti con una missione vendere la tua casa non affannarti a vendere casa ci pensa Toscano il gruppo che fa muovere gli immobili in Italia Toscano non è solo un'azienda che fa muovere gli immobili in Italia ma non è solo un'azienda che fa muovere gli immobili in Italia specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro Ben tornati al nostro telegiornale siamo alla seconda parte andiamo adesso a parlare di una vicenda di una madre che non è vigilo sulla figlia minorenne che aveva avuto rapporti sessuali con diversi ragazzi Il tribunale adesso assolve la madre e altri due imputati Sentiamo i particolari nel servizio Aveva avuto rapporti sessuali con diversi ragazzi che sono tutti finiti sotto processo perché all'epoca dei fatti la ragazzina aveva appena 13 anni Ne guai è finita anche la madre della minore accusata di non avere vigilato sulla ragazzina A distanza di 12 anni il processo si è concluso con l'assoluzione sia per la madre sia per i due dei quattro imputati che avevano scelto di essere giudicati con il rito ordinario La vicenda risale al 2009 quando la ragazzina che oggi vive al nord Italia avrebbe avuto rapporti sessuali con un giovane di Avola e con un ragazzo di Augusta Non appena emersa la vicenda è finita sul tavolo della procura di Siracusa che ha delegato l'indagine ai carabinieri l'attività investigativa che si è concentrata su intercettazioni telefoniche ambientali al culme della quale i carabinieri hanno denunciato cinque persone tre avolesi e un augustano tra le quali la madre che in una prima ipotesi sembrava fosse responsabile di concorso morale e quindi sembrava consenziente rispetto ai rapporti allacciati dalla tredicenne La donna di 53 anni però si è sempre protestata innocente non potendo essere presente nelle attività della figlioletta ha riferito che in assenza il marito era costretto a lavorare per mantenere i suoi cinque figli non avendo il tempo di esercitare un controllo assoluto su di loro Fu la tredicenne a confermare agli inquirenti con chi avrebbe avuto i rapporti sessuali e per tale motivo la madre e i quattro ragazzi finirono davanti al giudice mentre due di loro hanno preferito chiudere la partita con la giustizia ricorrendo uno al patteggiamento l'altro al reto abbreviato rimediando condanne di entità lievi e la madre e gli altri due ragazzi sono stati rinviati a giudizio e processati davanti al tribunale in composizione collegiare il pubblico ministero Carlo Enea Parodi a conclusione della requisitoria aveva sollecitato al collegio giudicante un verdetto di assoluzione per l'insufficienza di prove nei confronti della madre ma la condanna a tre anni per il 36enne Augustano e a due anni e mezzo per il 31enne Avolese anche sulla scorta della conferma dell'accusa avanzata alla ragazza nell'istruttore dibattimentale il tribunale ha quindi presciolto la madre perché il fatto non sussiste e ha assolto anche gli altri due imputati per essere venuta meno la condizione di procedibilità in buona sostanza siccome la madre da imputata non poteva costituirsi parte civile è venuta a mancare la querela condizione necessaria perché l'azione penale fosse esercitata i carabinieri denunciano il titolare di una ditta di demolizioni per la gestione non autorizzata di rifiuti un controllo dei carabinieri in un centro raccolta di demolizioni si è concluso con il sequestro penale delle auto che erano state compattate e il deferimento all'autorità giudiziaria retusea del titolare dell'azienda di Augusta nello specifico i carabinieri megresi in collaborazione al personale dell'ARPA Sicilia e del Libero Consorzio Comunale di Siracusa sono intervenuti presso un'azienda di demolizioni e trattamento materiali ferrosi in incontrada Martelletto a seguito del sopralluogo del controllo è stato verificato che l'impresa aveva proceduto alla demolizione e compattazione di alcune autovetture non preventivamente bonificate sostanzialmente non erano state divise smaltite in modo appropriato così come prevede la normativa tra cui le componenti inquinanti presenti nelle autovetture da rottamare come ad esempio i motori le parti elettriche e gli accumulatori le autovetture sono considerate rifiuti altamente inquinanti per questo chi vuole disfarsi del veicolo deve rivolgersi ad un centro di raccolta autorizzato che provvederà alle operazioni di trattamento e messa in sicurezza del mezzo per la demolizione i controlli sono orientati quindi anche a occuparsi di questo tipo di criticità che riguardano più in generale diverse casistiche di rifiuti affinché le procedure di smaltimento avvengano sempre nel rispetto delle norme vigenti Andiamo a parlare dei problemi per quanto riguarda la categoria dei cacciatori i problemi riguardano il rinnovo del porto d'armi Saro Vacante Presidente dell'Arcicaccia Provinciale di Siracusa ecco per quanto riguarda il rinnovo dei porto d'armi è un problema per i cacciatori della zona nord di Siracusa Lentini, Carlentini in particolar modo perché devono fare un giro turistico per fare degli accertamenti degli esami clinici è così Sì, è come dice lei per esattezza da un anno e mezzo sto inseguendo la sanità per quanto riguarda il rinnovo dei porto d'armi per le visite le visite che sono l'urina la visita psicologica e psichiatrica e per quanto riguarda l'oculista allora da circa un mese tranne la mia pressione si è ripristinato l'ufficio di medicina legale Lentini e posso dire che lavora eccellentemente sta lavorando bene e funziona per quanto riguarda invece l'urina uno cacciatore da francofonte per fare una pipì deve fare 150 km non è possibile per completare l'iter del porto d'armi perché deve andare a Siracusa per l'urina ad Augusta per la visita psicologica e psichiatrica e dopo ritorno a Lentini per quanto riguarda la visita oculistica quindi tutto sommato deve fare 300 km e deve perdere 4 giorni di lavoro non è possibile è vergognoso questo triangolo ancora una volta è penalizzato ecco voi cosa chiedete noi chiediamo che si faccia come fino a un anno e mezzo fa che passavamo le visite a Lentini sia psicologica psichiatrica l'urina e per quanto riguarda l'oculistica e c'era il certificato finale poi si portava alla polizia che debbo dire che debbo dire abbiamo un commissariato eccellente tant'è vero che io ho fatto una lettera di oggi perché in due giorni tre giorni al massimo danno i portatanni la seconda cosa faccio un appello al presidente della regione e dico caro presidente musulmane io sono dell'avviso che ci dobbiamo incontrare per due cose una per la sanità e per quanto riguarda la fluizione del biviero perché non è possibile che ancora oggi i bivieri restano sempre chiusi non è possibile la giunta comunale di Melilli ha approvato un progetto di più di un milione di euro un progetto destinato ai lavori di riqualificazione della piazza di Villasmundo la giunta comunale di Melilli ha approvato e finanziato con più di un milione di euro un importante progetto di riqualificazione per Villasmundo in particolare i lavori interesseranno piazza Risorgimento via Regina Elena via Campidoglio parte di via Vittoria Emanuele via Megara e il parcheggio annesso si tratta di un progetto ha dichiarato il sindaco di Melilli Giuseppe Carta che ho fortemente voluto e che mira a riqualificare e rendere Villasmundo più bella più innovativa funzionale e vivibile gli interventi oltre a rinnovare totalmente il decoro della piazza e più in generale di tutta la parte centrale della cittadina consentiranno una migliore fruibilità a beneficio non solo di residenti turisti e cittadini ma anche delle attività commerciali della zona prosegue quindi senza sosta conclude il sindaco Carta l'opera di riqualificazione che l'amministrazione sta portando avanti con zelo su tutto il territorio comunale con l'obiettivo di proseguire il percorso di sviluppo economico turistico e culturale che ci siamo prefissati per il bene della nostra comunità conclude così il primo cittadino di Melilli Apriamo adesso la pagina sportiva Campionato di eccellenza ripreso domenica con una formula d'emergenza dettata appunto dall'emergenza sanitaria in corso c'è un nuovo regolamento che andiamo adesso ad ascoltare nel dettaglio come è gestito per appunto il prossimo campionato sentiamo è ripreso domenica il campionato di eccellenza che è da considerarsi anomalo nel suo svolgimento a causa del covid ma certamente utile per definire le squadre che approderanno in serie D la Lega di Lettanti ha definito un regolamento specifico che dovrebbe consentire di far completare il campionato innanzitutto sarà disputato solo girone di andata con la stagione che terminerà domenica 23 maggio a quel punto entra in scena la cosiddetta post-season le prime otto classificate parteciperanno alla poll A una formula che prevede la suddivisione delle compagini partecipanti in due quadrangolari la prima partita poi è fissata per domenica 30 maggio nelle primo quadrangolare si affronteranno la prima la terza la sesta e l'ottava classificata nelle girone preliminare nel secondo quadrangolare si sfideranno la seconda la quarta la quinta e la settima le prime due classificate di ogni girone accederanno alla semifinale che si svolgerà domenica 13 giugno in gara unica e su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore per determinare la vincente le squadre qualificate si affronteranno nella finale in programma in campo neutro domenica 20 giugno e la vincitrice accompagnerà in serie D la squadra che arriverà al primo posto nel girone regolare adesso diamo spazio alle previsioni meteo vediamo quindi che tempo fa amici trebi meteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì che ridrà un'alta pressione relegata sulla parte alta del continente lungo il suo bordo orientale scorrono correnti fredde che manterranno le temperature contenute sull'Italia e poi anche un minimo di variabilità controlliamo infatti la nuvolosità attesa sul nostro paese non sono previste grandi perturbazioni però vedete degli annuvolamenti saranno presenti specie a ridosso delle zone montuose e soprattutto sulle isole maggiori per questo ammasso nuvoloso presente sul Mediterraneo come precipitazioni ecco poca roba però qualche acquazione nelle ore pomeridiane si formerà a ridosso delle aree montuose anche con qualche fiocco di neve sulle Alpi Centro-Orientali e poi le isole maggiori potrebbero essere interessate da qualche piovasco soprattutto la Sicilia quindi in definitiva ci attende una giornata di giovedì che ci regalerà comunque anche delle ampie schierite soprattutto nelle regioni peninsulari sulle isole qualche nuvola in più in particolare in Sicilia qualche piovasco nella seconda parte del giorno sull'isola e poi brevi acquazzoni che si formeranno in giornata a ridosso delle zone montuose più che altro sull'arco alpino però ripeto non mancheranno ampie schierite temperature che restano però contenute per tutta Italia anche se giornate successive scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo Con il meteo finisce il nostro telegiornale noi vi ringraziamo per l'attenzione vi diamo appuntamento alle prossime edizioni arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti